L'impacciato studentello Marty, alle prese con i problemi tipici della sua età, conquista fama, successo e donne e quando scopre di essere un lupo mannaro per fattore ereditario lo è anche il padre. Ma alla resa dei conti vuole vincere con la sua vera personalità, umana, commedia giovanile simpatica e sottilmente morale, con un Michael J. Fox in splendida forma.